ciao amici di aurora channel in questo video chiederò alla mia mamma come mio papà in cucina adesso sta cucinando pasta alla carbonara vediamo se a lei piacerà però prima chiediamogli come come in cucina andiamo mamma come il papà in cucina brutto come tutte le altre stalle non è andata molto bene